In 2020 non ti sei fidato visto l'anno di merda? No, esatto, 2021! 500 di Bulls che è stata dal 3 di novembre Questa dice che hanno modificato il telaio rispetto alla mia Se l'hanno potuto hanno alleggerito E poi anche questa dalla vecchia è più dritto Sì, questo triangolo qua cambia L'altra mezza saliva di più Ma su che andiamo? No, rimaniamo così È molto, è che mi cambia Ci stiamo aspettando? Come di questi? Com'è? Levato dal garage dopo 4 mesi Qualcosa che non va? Inferiore perché è carbonio e cosa Questo è carbonio, la forma anche del tubo Questa si chiama halloween? Ha stremato il... Ha cercato di alleggerire Ha nasciugato Non deve metabolizzare Per metabolizzare O forse è perché in carbonio ha... Ha bisogno di essere più grossa Nooo Cioè alla fine... No, alla fine del gioco Scusami, lui ha fatto 2.750 850 ha venduto la sua E sono 1.900 500 di Bono la fa 1.400 Tu la vendi di più La settimana prossima La settimana prossima La settimana prossima La settimana prossima Bella, bella Punto per compadattare E qui i nostri eroi Piano, piano, piano È finito, è finito No, non è finito Rebound? Rebound? Sei pronto? Sei preparato? Sai che non posso Dove essere tutto in serio comunque Tutto di serio Arziatina Abbiamo fatto solo 9 km Un cazzo Vabbè No, un cazzo no Perché era tutto salito Allora Mi hanno fatto 1.500 Abitami sembrava molto Però mi hanno fatto Un cazzo di terra Ho montato la batteria adesso Lo mio è della dura C'è il Vediamo all'ingresso del suono Sì 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 Farò il metro di qua Sciatu Vai Gerry non c'è nessuno E' un po' esatto ma che è proprio di ignoranza sei andato questo l'ho ascoltato e andiamo al settimo sono troppo scarsi peccato quasi all'innetto di bega sì se non cado qui è contenuto a 360 gradi ragazzi è mancato perché camminare con le tacchette e l'altro consumate da punta san michele ci va la costa dell'iglese si vede il mare tutto è stato antico è stato per il tempo brutto si proviamo cos'è ma non ve lo ricordate scusate com'è con c'era oh oh no 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 non come è la ventinove? ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Ancora rompi i coglioni? Ancora rompi i coglioni? Però all'inizio sembrava. Gentaglia. Ancora rompi i coglioni? Ancora rompi i coglioni? Bellissimo. 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 Balla bello. Balla bello. Ci siamo? Trenini? Trenini? Balla rompi i coglioni? Vieni congera. Vieni congera. Balla rompi i coglioni? 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 Ma l'ha provato a mandare al limite? Ma insomma . Ti è andata? Seguendo lui. Io seguendo te. Beh. Asciuti che una maravilla. Poi lo visto a fermo? E che cazzo è questo? No. E questo Mark? Devi cambiare il disco. Ma no. Pff! Se riparte. E 180 dietro. Balla rompi i coglioni. Balla rompi i coglioni. Balla rompi i coglioni. Ebbene verta sa Vabbè Eh lo so io sono più lento E ce n'è uno più lento dietro di me però Un rasoio di vero Macchina Macchina Giuse Che abbiamo? I contenuti Faccio una minchia perché mi sei scaricata la batteria E' un cavo E' come fare lo youtuber E' un peccato perché l'ultimo pezzo Finchia che funghi che hai trovato Eh pilota Che goldi Non è ancora goldi Abbiamo ricominciato la stagione Mi avverte Grande Giuse Mi avverte fatto bene A far non andare in WeServer No non c'è un cazzo di aria No in WeServer vai sempre Il gruppo poi vale Questo gruppo vince su tutto E birra Sì gli sportivi in bici Gava I veri sportivi in bici Passiamo a cambiare la storia Sai che non sono bello quanto si vede Sposta un po' la mano Eh adesso No no ma guarda Bisogna metterlo nelle su strada Raggiungendo dei libri di professionalità Sì la foto del gruppo Poi con le bollicine che salgono così esce un po' Contenuto Alla lavata di bici di pilota Finalmente Finalmente doveva uscire Finalmente Quel prodotto miracoloso Che veniva da Sisa Il vetril Scusi ce l'ho porto per il vetril Quello rosa Ma amico mi ha dato Rosa ma rosa Non c'è Ma amico Non c'è di scappare Rosa per il vetril